Inizio 6.15, a pagina 279 del Foccardi di Meccanica. In pratica abbiamo un razzo che parte da A, percorre un tratto di circonferenza, che è un angolo conosciuto, un raggio dato, da A fino a B, con un motore acceso che dà una spinta costante, una spinta F costante, e poi, da B in poi, spegne il motore, va avanti per inerzia, solo stopposto alla forza di gravità, in salita, quindi a una certa, raggiunge la quota massima C, poi si ferma. Proviamo a caccolarci la velocità in B e quanto è lungo il tratto che percorre il motore spento. Il problema dice di farlo solo con considerazioni energetiche. Quindi, l'energia, sappiamo, abbiamo definita come cinetica più potenziale. Qua ci sono tante notazioni, K più V, K più U, T più U, T più V, Goldstein, Landao, Foccardi, basta che ci capiamo, è cinetica più potenziale, è la somma dei potenziali. Ok, noi qua l'energia potenziale la possiamo definire perché di sicuro c'è la forza peso, che è conservativa, ottimo, e l'altra forza non è conservativa, lo sappiamo o no, ma tra poco lo dimostriamo. Comunque iniziamo a definire uno zero di energia potenziale, che tanto ci serve, e lo pongo in A. Quindi, il corpo in B avrà una certa energia potenziale gravitazionale, Mg per altezza di B, e in C idem. Non sappiamo però quest'angolo alfa, ma non ci interessa. Ok. Sappiamo magari qualcosa di più su altezza che è in B, perché se noi notiamo la proiezione di B su O A è esattamente Rho per il costituzione dell'angolo, e sarebbe O fino a HB. Quindi, se noi ci interessa invece A HB, basta semplicemente fare Rho meno la proiezione. Quindi l'altezza che noi cerchiamo è esattamente Rho meno Rho costetta, che scriviamo come Rho meno 1 costetta. Ok. Quindi, vogliamo dimostrare che la forza che genera il razzo non è conservativa? Ok. Dobbiamo fare la definizione di lavoro e dimostrare che dipende dal percorso. Quindi, intanto, calcoliamoci quanto è il percorso. O lo si fa ricordandosi che l'arco di circonferenza appare a il raggio per l'angolo, oppure si fa una proporzione. Quindi, 360 gradi, il radiante 2π sta a tutta la circonferenza, come l'angolo di circonferenza sta all'arco di circonferenza. In ogni caso, otteniamo che il nostro spostamento a B è più uguale a θ per Rho. Quindi, il lavoro dovrebbe essere F lungo il versore U della velocità scalare, sono un po' toscalare, dr, però noi ci vediamo che questo qua è un numero, perché è una forza costante, quindi lo possiamo tirare fuori dall'integrale, e l'integrale di dr è esattamente lo spostamento a B, che sappiamo essere Rho costetta. Ok, quindi no, non è conservativa perché al variare di Rho, al variare di R di θ cambia il lavoro, mentre invece per la forza conservativa è lavoro indipendente dallo spostamento che cerco di fare. Ok, quindi usiamo il fatto che c'è una forza non conservativa, dato che sappiamo che la variazione di energia meccanica è smorzata appunto dalla forza non conservativa, quindi l'energia meccanica finale meno l'iniziale deve fare questo lavoro qua, F Rho costetta. Quanto vale l'energia meccanica iniziale? Dovrebbe essere cinetica, un mezzo A quadrato, più potenziale, ma vedete che a parte la fermo e io ho definito l'energia potenziale in A nulla, proprio per fare una cosa un po' più comoda, più veloce, quindi fa zero. Mentre invece la meccanica finale esiste. Un mezzo Mv dove ci fermiamo in B alla seconda, più potenziale, Mg per l'altezza H, e la poniamo uguale appunto al lavoro delle forze non conservative. Adesso passaggini, passaggini, avevo sbagliato qua un meno, facciamo finta di niente. E otteniamo la velocità del corpo in B, che è l'unica incognita in questa equazione. Ottimo. Come facciamo a sapere quanto percorre di strada? Noi sappiamo anche un'altra cosa, che invece da B a C lui spegne il motore, quindi non c'è più la forza non conservativa, c'è soltanto la forza peso, che però è conservativa. E noi sappiamo che il lavoro totale delle forze è pari alla variazione di energia cinetica. Tra l'altro questo punto qua lo potevo usare anche prima, però, vabbè, almeno usiamo più cose. Quindi andiamo a vedere. Qua ci vuole un po' di trigonometria. Sapendo quest'angolo qua, se io traccio la perpendicolare nel punto in cui poi va dritto, questo angolo qui, θ, e quest'angolo qua, di sicuro sono uguali perché sono due rette parallele, tagliate da una diagonale, e loro sono alterni interni. Quindi, talete ci dice che sono uguali. Ottimo. Mentre invece, se io considero il tratto alle che percorre, questo qua genera un altro angolo qui, e noi sappiamo che questi qua sono uguali, perché sono semplici. Questi qua vanno a 90 meno θ, questo qua vanno a 90 meno θ. Quindi, possiamo ottenere un modo per calcolarci l'altezza, dato che l'altezza è esattamente la proiezione su questo asse qua, sull'asse U, di L. Quindi è U scala L. Ossia, L per il coseno dell'angolo, che è 90 meno θ. Notiamo che, dato che il seno e il coseno sono due funzioni uguali, ma semplicemente traslate, una parte da 1 e l'altra parte da 0, quando io li traslo di pi ricomenzi di 90 gradi, il coseno diventa seno e viceversa. Quindi il coseno di pi ricomenzi meno θ θ sarebbe il seno di meno θ e ricordiamoci che il seno di meno θ è uguale a meno sen θ, perché questa qua è una funzione dispara. Quindi qua avremmo un doppio meno, che si annulla, e quindi noi possiamo finalmente... No, no, no. Questa qua è z finale, meno z iniziale, quindi scusatemi, è lei che la poniamo uguale a 0, e la z finale appunto è meno sen θ. Ops, eccolo che si semplificava, perché è meno sotto e meno sopra, quindi diventa un più. Ok. E quindi possiamo finalmente porre l'operazione di energia cinetica, che parte da... non c'è da velocità, ma arriva fermo, quindi qua ci sarebbe uno 0. 0 meno mezzo m v di a al quadrato è uguale a meno mg per l sen θ. E quindi finalmente otteniamo il nostro l, che vale come v² su 2g sen θ. e quindi... e quindi... e quindi... e quindi... Grazie.